Per le donne che vivono in una relazione maltrattante la necessità di rimanere a casa per evitare la diffusione del virus si può trasformare in una vera e propria condanna. Se vivi una situazione di violenza hai il diritto di chiedere aiuto per proteggere te stesse di i tuoi figli anche in questo momento di isolamento. Se invece il tuo partner in questo momento sta proprio agendo maltrattamenti oppure minaccia di farlo puoi rivolgerci al centro antiviolenza più vicino a te per chiedere aiuto ed essere ascoltata. Se temi per la tua vita o per quella dei tuoi figli e delle tue figlie chiama il 112. Ricorda non sei da sola, non esitare a chiedere aiuto. Grazie a tutti.